Quindi Assessore, voi state facendo delle azioni concrete per accogliere voti? Sì, ma quali azioni concrete? Ad esempio, stiamo pasturando quei cittadini che d'estate vanno a imbevararsi nei parchi cittadini e là, sacco, che portiamo i volantini, no? Nei parchi? Il progetto Parchi Votito... E anche quando sono in piscina, gli corriamo dietro finché si stanno annoando e noi sempre... Lei a bordo, piscina dai volantini? Scusi, li chiamo plastificati! Ho capito, ma non è che... Con i volantini sempre a disposizione, sempre sul pezzo perché noi siamo sempre a disposizione delle persone Come si chiama questo progetto? Noi non ci neghiamo! Hai capito che capisci? In piscina! In acqua, in acqua! Perché sono in piscina? Sì, sì, certo! Noi non ci neghiamo! Eh?